Voi pensate l'anno prossimo di fatturare una cifra che uscilla a 370-80 mila euro, giusto? Se tutto va bene, sì. Eh, se tutto va bene, siete nella merda, eh. Il marito di mia figlia mi guadagna meno di un rumeno, allora tanto voleva che si sposasse in rumeno. Fabri. Anche perché? Romeni, pugliesi, insomma, no? Siamo lì. Sto vedendo se ci sta il lettino, però non puoi capire, è meraviglioso, perché ci sta, è perfetto. Domani parto per l'Erasmus. Tu quando sei tornato? Nel 2005. Ho fatto vedere il vostro documentario a Betsy, il mio capo. L'ho convinto a prendere voi per questo lavoro qua. In una parola, ragazzi, one word, Africa, 150k, dovremmo farci. Quanto? Ma è meglio fare cose pulite con soldi sporchi o cose sporche con soldi puliti? Fermi qui. Che problema c'è? Africa. E poi, anche se sono soldi sporchi, in Italia chi ti scopre? Ma... Ma la G per cosa sta? La G. Otto sono i paesi coinvolti, ma la G è la G di Genova. Come fa ad essere Genova, scusa? L'anno scorso era Okinawa, cos'era? O Otto? Non lo so. Vogliamo una cosa forza. E il sindacato questa volta deve osare. È un po' di estro, non so, di mobili, boldoni, mobili... Ce l'ho, ce l'ho io, la vado adesso. No, non scherzo, siete veramente nella merda. No, ci sono i paesi fratelli. iglo, grimo, coi... No, non so. No, siamo ti riesciabili.